La reazione che stiamo pensando di mettere in campo è quella di richiedere un passaggio al Ministero degli Interni, in alternativa una direzione generale di Polizia Penitenziaria con i vertici e come figura apicale appartenenti alla Polizia Penitenziaria, che ci garantisca formazione, preparazione, organizzazione, operatività, strumenti, mezzi, tutto. Sì, infatti, nella situazione della Puglia sono due anni che noi come OSAP, dopo il rinnovamento che c'è stato di questa organizzazione sindacale, rispecchia una realtà che comunque può essere facilmente abbinabile a quelli che erano gli anni di più, degli anni 80-82. A cosa ci riferiamo? Ci riferiamo in particolare alla scarsa sicurezza interna agli istituti e sulla pochezza delle attrezzature, dei mezzi, delle strutture per operare per la Polizia Penitenziaria. Parlo di nucleo di traduzione e piantonamento, per non parlare poi anche di questa fantomatica famosa sorveglianza dinamica che per quanto ci riguarda la riteniamo proprio praticamente insufficiente in termini anche di sicurezza. perché se parliamo di sicurezza parliamo di una sicurezza non solo del carcere ma anche dei cittadini, perché il carcere vuol dire sicurezza anche per il cittadino. Una cosa che va a chiarire è questa, insomma, la scarsità di presenza, l'assenteismo generale di questo attuale governo che non ci consente di lavorare con la massima serenità. Il personale è stanco, è stanco, non si riconosce in questo che è la politica attuale del nostro Paese in un'amministrazione centrale inadempiente su quelle che sono le condizioni lavorativi del popolo e degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria e noi a questo punto diciamo basta. Ma al di là del fatto che comunque anche la Comunità Europea si sta sentenziando continuamente sulla questione delle leggi di Torreggiani, la sentenza di Torreggiani, i richiesti di risarcimento danni, è solo una speculazione e tutti, tutti stanno speculando su sta cosa per ottenere soldi. Non è vero, la Polizia Penitenziaria è un corpo di uomini specializzati che ha una duplice funzionalità che è quella del trattamento e della sicurezza che nessun altro corpo di Polizia ha. Sicuramente in Europa siamo ancora troppo deboli, sicuramente il mercato dell'olio è una cosa troppo ghiotta economicamente parlando e purtroppo il mondo dell'olio italiano ancora non è abbastanza coeso, abbastanza forte per determinare una scelta così importante e perché poi chiaramente rispetto a Grecia e Spagna, che saranno anche loro porti da proto, il fatto che in Italia ci siano delle regole così serie che determinano anche dei blocchi importanti di partite di olio, avvalora il fatto che se un olio a Dazio Zero viaggia attraverso l'Italia ha un valore ancora più importante all'estero. sicuramente le 70 mila tonnellate di prodotto a Dazio Zero avvantaggia sicuramente i signori dell'olio mondiale, non avvantaggia sicuramente i tunisini e lo hanno dichiarato, non avvantaggia sicuramente il mercato nazionale. Sarebbe importante che questo olio a Dazio Zero potesse essere identificato sulle bottiglie esplicitando chiaramente da una parte un prezzo considerevolmente basso e quindi perché chiaramente è un prodotto che a Dazio 1,38 euro e che costa 80 centesimi al chilo, ma contemporaneamente dobbiamo anche poter dimostrare ai consumatori che quello è un olio diverso, non soltanto perché non è italiano, ma oltre a non essere italiano non subisce i controlli italiani, non paga la retribuzione giornaliera come in Italia, ma in realtà in Tunisia si lavora per 25 dollari al mese e soprattutto dal punto di vista fitosanitario chiaramente usano dei prodotti fitosanitari che in Italia sono vietati da 20 anni. Ma non ci si deve soddisfare di una valutazione che sia meramente quantitativa, io sono convinto del fatto che noi dando una risposta ai rilevi di Strasburgo abbiamo fatto il nostro dovere ad impiuto a delle indicazioni che credo fossero il minimo necessario. Penso che si debba fare di più perché credo che al di là dello spazio a persona il problema è che cosa avviene nelle carceri, cioè quale effettivo percorso di riabilitazione si realizza, quale effettiva capacità di contrastare la recidiva si mette in campo. Da questo punto di vista stiamo facendo un lavoro importante che si concluderà nel mese di aprile con la convocazione degli stati generali dell'esecuzione penale, ai quali parteciperà il Presidente Mattarella e al quale abbiamo invitato a partecipare anche la Commissaria Iurova. In quell'occasione cercheremo di fare un ulteriore passo avanti. Questo però non è un motivo per non sottolineare il fatto che rispetto a quanto Strasburgo ci ha posto la risposta è stata positiva e tra l'altro è stata sottolineata anche dal Consiglio d'Europa la volontà delle autorità italiane di agire con continuità e determinazione. Lo dico perché talvolta giustamente Strasburgo è stata presa come riferimento quando non eravamo in regola, adesso che lo siamo non si può far finta che Strasburgo non abbia detto niente. È il segno di una volontà delle autorità giudiziarie italiane di andare fino in fondo in questa vicenda, con il sostegno convinto e determinato, lo voglio esplicitare qui, del Ministero. È il segno del fatto che si chiede anche all'Egitto una pronta, effettiva e trasparente cooperazione in questo senso. Ripeto, l'iniziativa del Procuratore Pignatone è l'iniziativa di un Paese che vuole la verità e dà tutto al sostegno della struttura del Ministero. C'è stato un approccio generale, credo che vada salutato positivamente il fatto che si sia fatto un passo nella direzione di una normazione comune di questo tema. Noi abbiamo manifestato tutte le nostre riserve, la contrarietà legata al fatto che tra le norme di incriminazione non vi siano quelle che riguardano i viaggi all'interno dell'Unione Europea, che riteniamo altrettanto pericolosi quando sono di supporto ad attività di carattere terroristica. Speriamo che nella negoziazione con il Parlamento questo elemento possa essere recuperato perché lo riteniamo essenziale per un effettivo contrasto alla vicenda terroristica. Credo comunque che vada salutato positivamente il fatto che questa discussione avvenga e si proceda verso una normativa comune proprio nel giorno in cui si ricordano le vittime del terrorismo. Niente, nulla perché rimane e rimarrà nel tempo e nei secoli. Ci sarà sicuramente un marchino, un figlio, un nipote che sarà l'ossessione dei bertolaci di turni che vogliono camuffarsi, ma una persona, come può dire, una partecipazione che fa lui da solo, comune o concorrente, se va male il ritiro. È come se mio figlio dice papà organizziamo una partita, io gli chiamo tutti, chiamo con i tir tutti gli spettatori, mi fa papà però se perdo vado via. Siamo seri. I romani non ne possono più. Quando io dico facciano noi, i nostri ragazzi fanno sabato, anzi domenica mattina a Piazza del Popolo iniziativa, Roma non ti fa fregare. Questa è nessun'altra intelligenza. Vuoi far male primarie? Falle. Poi puoi farle bene o male come il PD, falle. Ma le primarie fatte da solo, in cui c'è uno solo, dice allora vuoi uno che assomiglia a Bertolaso, vuoi proprio Bertolaso pure o vorresti Bertolaso forse? Ragazzi, stiamo a Roma, bisogna spiegare a chi ci ascolta. Forse vivono al nord. Che a Roma? Sono millenni, non ci prendono in giro. Però Berlusconi dice che può vincere al primo turno. Bertolaso? Certo, ovvio, se è gregiato da solo sicuramente. Virtuosa collaborazione per fini comuni, quella della sicurezza e della razionalizzazione degli ingressi al Palazzo di Giustizia, che a Napoli è un problema enorme. Senza compromettere le esigenze di sicurezza di un grande ufficio giudiziario, bisogna favorire l'attività di coloro come i commercialisti che svolgono un lavoro di grande collaborazione con i magistrati. Grazie. 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 Grazie.